Sono Letizia Moratti. La clandestinità fa male all'integrazione. Sono oltre 160 le comunità straniere con le quali conviviamo in armonia. Siamo aperti a tutti, ma con le carte in regola. Questi sono fatti, non parole. Il 29 e 30 maggio. Vota Letizia Moratti, sindaco di Milano. Committente responsabile Laura Girard.